Quando la luce naturale non basta, usa illuminazione a basso consumo. La scelta è varia, valuta in base ai bisogni effettivi. Ci sono anche sistemi per controllare l'accensione o lo spegnimento automatico e ridurre così i consumi superflui. Comunque basta ricordarsi di spegnere le luci quando si esce da una stanza. Grazie a tutti.